Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera cercheremo in qualche modo di fare il punto, di mettere un passo, una pietra miliare su quello che è un po' l'attualità della politica che riguarda il nostro paese ma anche a livello internazionale visto che la tornata americana qualcosa ci ha detto e il panorama anche a livello europeo sta cambiando. Lo faremo con un esperto in qualche modo, il docente di diritto elettorale parlamentare all'Università di Firenze, Carlo Fusaro, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera a voi. Carlo Fusaro è docente all'Università di Firenze ma è stato un politico italiano e un pensatore politico, diciamo così. Tra l'altro ha portato avanti anche una posizione abbastanza chiara su quello che fu il referendum del 4 marzo che secondo molti è stato uno spartiacque nella politica italiana. Parleremo anche di questo perché vale la pena riprenderlo anche se sembra molto lontano nel tempo. Prima però Fusaro volevo un accenno proprio su quelli che sono un po' i temi del giorno. A partire dalle elezioni americane, molto si è visto, complice anche in un metodo di comunicazione attraverso i social, queste immagini di queste donne molto giovani con un background, un curriculum non propriamente comune per quelli che sono di solito i candidati. E' un vento se non è che sta cambiando a livello dei democratici negli Stati Uniti? Questo è difficile dirlo ma certamente c'è, mi sembra, la capacità di trovare delle personalità nuove. Dobbiamo tenere conto che il partito democratico americano dopo la sconfitta di Hillary Clinton è alla ricerca spasmodica di personalità in grado di competere con gli avversari repubblicani in generale e in prospettiva anche alle presidenziali. Ora, queste personalità delle quali lei parlava, le due musulmane, la giovane di New York che ha 29 anni e così via, le due native americane, cioè si dice native americane adesso, diciamo, si sarebbe detto indiane un tempo, indiani e americani naturalmente, non credo che siano personalità che possano aspirare a una candidatura presidenziale nelle prossime elezioni, ma naturalmente sono personalità che si possono ottenere in futuro. Ecco, loro hanno anche un sistema elettorale, lo sanno tutti, anche gli ascoltatori, gli spettatori, fatto tutto di collegi uninominali che esaltano le singole persone e questo agevola l'individuazione di candidati con una capacità di parlare con le persone, di apparire giovani, freschi. C'è qualcuno che in Italia, come dire, lo invidia un po' questo metodo, soprattutto per quelle potenzialità di ricambio generazionale, ma non solo generazionale, insomma in politica, la capacità di portare volti nuovi e qualcuno vorrebbe che questa, tra virgolette, ondata femminile arrivassi anche nel nostro Paese, sarebbe il tempo giusto, secondo lei? Ma a dire il vero, qui dobbiamo mantenere la prospettiva chiara. Mi pare di aver capito che entrino nel Congresso degli Stati Uniti, in particolare nella Camera dei Rappresentanti, cioè la Camera dei Deputati, l'equivalente, un quarto circa, un po' meno di un quarto di donne, ora in Italia ce ne sono di più, in Italia ce ne sono di più e quindi l'Europa è avanti sotto questo aspetto e anche sotto il profilo del rinnovamento non è che non abbiamo gente giovane sia in questa legislatura sia nella scorsa. A volte per il fatto di dire che magari la gente giovane può essere anche poco esperta o un pochino troppo irruenta, non lo so. Ricambio in Italia ce n'è stato, non è che non ce ne sia stato, fino a vedere se è stato un ricambio di qualità e soprattutto se è stato in grado di intercettare le aspettative dell'opinione pubblica. Tutto da vedere. Io sono molto però favorevole a un impegno e un allargamento della rappresentanza delle donne. Le donne per lo più, senza generalizzare, ma portano in politica un approccio che non è quello degli uomini e che non può che giovare. In fondo se ci guardiamo in giro per il mondo abbiamo una serie, abbiamo avuto, abbiamo una serie di leader donna che dimostrano questo assunto. Quindi benvenute. In America su questo sì, si stanno dando una mossa, ma appunto gli ascoltatori devono sapere che nell'opinione abbastanza diffusa purtroppo va registrato che alla vittoria di Trump ha concorso il fatto che il candidato alternativo Hillary Clinton fosse una donna. Tant'è vero che fu detto c'è questo cielo di vetro che ancora non siamo riusciti a sfondare noi donne, disse Hillary Clinton e spero che le donne future riusciranno a sfondarlo. Ecco, un passetto avanti è stato fatto. Vedremo, vedremo. Senta, venendo a noi e anche alla nostra Europa, proprio dall'Europa in qualche modo oggi sono arrivate un nuovo monito, un taglio alle stime del PIL e anche il paventare un rischio di ricaduta sulle banche, quindi di instabilità finanziaria e addirittura il Fondo Monetario Internazionale ha detto il rischio di un contagio che parte proprio dall'Italia. Come dire, diventiamo un po' la pecora nera se già non eravamo in posizione così ottimale dal punto di vista economico in Europa? Beh, noi siamo diventati la pecora nera, su questo non c'è dubbio, ma per forza voglio dire se invece di stare agli impegni, annunci e li vuoi violare, trovando una motivazione piuttosto che un'altra, dopo essersi avvantaggiato evidentemente della moneta comune, di politiche che si avvicinavano, pur avendo questo debito enorme che abbiamo fatto noi, mica l'hanno fatto gli altri, ce lo siamo, anzi bisogna dirlo, io ho una certa età e il debito l'ho trovato perfino io, figurati un po', e negli anni 70-80 si costruisce il debito italiano, poi si è anche un po' peggiorato, ma essenzialmente questo andare al di là del 100% di debito sul prodotto lordo viene da un monto indietro nel tempo, è una cosa molto pesante che ci è un po' piombo sulle ali di un paese che da vent'anni non cresce, allora il problema è proprio questo, perché se noi crescessimo, cioè fossimo capaci di crescere a 2-2,5%, 1,5%, 2%, insomma i paesi più sviluppati non crescono come quelli meno sviluppati e sono in grado di crescere 5-6-7% come crescevamo noi negli anni 50-60, questo si restringe, Questo si restringe perché più vai avanti più è difficile incrementare evidentemente, però se noi crescessimo a tassi fra l'1,5% e il 2% anche quel debito enorme non sarebbe il problema, o almeno sarebbe un problema minore, invece siamo un paese che da 20 anni non cresce e quindi o cresce molto meno degli altri, questi dati che lei riportava che vengono dai servizi studi dell'Unione Europea confermano alcune cose che prima di tutto non sono solo dell'Italia, cioè un'economia mondiale e europea in rallentamento, lo leggevo proprio l'altro giorno, tenete conto che l'economia che resta pilota nel mondo, quella americana di cui infatti Trump si vanta, anche se lui c'entra solo per l'ultimo pezzetto, sono 112 mesi, 112 mesi, quasi 10 anni che cresce, quindi è bene sapere che gli americani danno per scontato che si va verso un qualche rallentamento rilevante della crescita, figurati un po', noi siamo quelli che in Europa crescono meno di tutti, ecco perché nasce il problema del debito, perché chi ci fa credito dice, oh, fate finta di essere una famiglia che ha un debito, finché lo stipendio cresce, 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 chi ti ha fatto credito non si preoccupa troppo, ma se sa che perdi il lavoro e si spaventa, ora qui non si tratta di perdere il lavoro ma di crescere poco e quindi di avere meno risorse per pagare un debito che è spaventoso, di qui tutto quello che sappiamo, il famoso spread, lo spread si chiama dietro l'indebolimento delle banche, perché le banche sono piene di titoli di Stato e insomma a catena il timore è che si vada non verso la crescita ma verso una recessione e l'avvitamento. Che poi in ultimo comunque, questo va sempre detto, lo pagheranno e eventualmente anche i singoli utenti, perché poi non è che queste cose, perché appunto, e questa è una domanda, la narrazione, la contronarrazione rispetto a quella europea che si fa nel nostro paese è di additare una sorta di nemico sostanzialmente, chi l'Europa viene oggi rappresentata come qualcuno che vuole impedirci di fare la manovra del cosiddetto popolo, ma questo popolo Fusaro la domanda è questa, chi è, chi è rappresentato da questo popolo e soprattutto si muove davvero come un corpo unitario così come qualcuno vuole rappresentarci oggi? Beh, Alessio, lei sa che in una sfortunata dichiarazione in qualche televisione che io non so citare, ma negli ultimi giorni l'attuale Presidente del Consiglio a questa precisa domanda ha risposto il popolo sono gli azionisti che sorreggono il governo, che per uno che fa il giurista e Presidente del Consiglio una cosa fa un po' rabbrividire. In realtà il popolo evidentemente sono tutti i cittadini e il governo rappresenta la maggioranza, dovrebbe però rappresentare l'insieme della collettività. Loro sono bravissimi nel costruire slogan, non so quanto di successo, la manovra del popolo cosiddetta è una distribuzione di risorse a spese del debito, perché sono risorse che non ci sono e quindi di noi e dei nostri figli per fare che cosa? Far andare 350 mila persone in pensione prima, il che è esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe fare, anche se mi compiaccio per quei 350 mila, però si sappia che quei 350 mila costano agli altri 59 milioni e 700 mila italiani un sacco di soldi nel prossimo futuro. E poi il famoso reddito di cittadinanza, di cui non si capisce ancora bene le linee, ma anche quella è una distribuzione di risorse che potrebbero essere impiegate più produttivamente. In altre parole, la manovra che fa questo governo è una manovra carente sotto i punti cruciali, di creare lavoro, di abbassare i costi delle imprese, di rilanciare l'economia e gli investimenti. Sono distribuzioni per la maggior parte, c'è anche qualcosina in quella direzione, ma irrilevante. Di fronte a questo ecco che nascono evidentemente le difficoltà e i problemi, non so, chiamiamola come vogliamo, ecco, io non so se si possa fare manovra del popolo, è un bilancio per i prossimi anni che va in contrasto, prima di tutto nel mio modesto parere, contro i nostri interessi, però va soprattutto contro gli impegni che ci siamo assunti e ce ne siamo assunti perché quando fai parte di una comunità evidentemente prendi i vantaggi e gli svantaggi. In fondo se noi paghiamo tuttora nonostante il rialzo e abbiamo pagato per gli ultimi 15 anni interessi bassissimi su questo debito spaventoso è esclusivamente perché facciamo parte dell'Unione monetaria e quindi anche tanto più dell'Unione europea. Se abbiamo un mercato nel quale riusciamo a esportare, siamo, a parte la Germania, il maggior paese produttore e esportatore in Europa, è perché facciamo parte di... ora non è che ci puoi prendere i vantaggi, non ti prendi, non dico gli svantaggi, ma i limiti, perché gli altri si preoccupano, dicono ma ho un momento, e se l'Italia fa bancarotta o l'Italia non è in grado di reggere e travolge con sé l'euro e la moneta di tutti noi, ecco perché rompono le scatole. Tra l'altro, come dire, la riprova in questo è che, come dire, anche i primi accusatori di questo, i primi a aver paura dell'esito italiano e dell'economia italiana sono quelli che dovrebbero essere poi gli alleati politici di questo governo, perché insomma c'è l'Austria che è alleato o è vicino, secondo alcune politiche, soprattutto sulla gestione dell'immigrazione, ma sulle materie economiche invece sono molto restrittivi, anche rispetto al nostro paese. Certo, è così, è così, ma questo è... ecco, il problema dell'Europa, perché c'è evidentemente, è probabilmente che non siamo riusciti tutti noi europei a fare i passi definitivi avanti. Quelli definitivi vogliono dire che soprattutto a livello economico, finanziario e fiscale vi è davvero una politica unica europea, che permetta poi anche politiche di solidarietà europee e naturalmente anche politiche comuni in materia di immigrazione. E qui c'è una tendenza a ciascuno ad andare per conto suo. D'altra parte, perfino la questione immigrazione che è la più delicata, a parte il fatto che è un'emergenza che praticamente non c'è più da almeno un anno e mezzo, è costruita dalla Lega e dal governo attuale per poter dire di affrontarla e per poter vincere le elezioni come ha vinto il 4 marzo, sia pure separati, distinti e contraposti, non dimentichiamolo mai, la Lega e l'Università 5 Stelle, ma insomma l'hanno costruita su un'emergenza che non c'è. Ma anche in quella materia dobbiamo lamentarci di noi stessi, perché è stato il governo Berlusconi a firmare il famoso accordo di Dubolino, il quale sanciva il dovere per il paese di primo ingresso dell'immigrato o del rifugiato di prenderselo in carico, salvo poi la ridistribuzione venuta dopo, l'idea di ridistribuirla. Ma il riconoscimento dello status deve avvenire nel paese in cui si è di approvo. Esatto, e quindi noi avremo tutto l'interesse a politiche per cambiare in meglio l'Unione Europea nella direzione dei nostri interessi sull'immigrazione, sulla finanza, sull'economia, sulla solidarietà, ma per fare questo è difficile che tu riesca prendendo a male parole e a cazzotti i tuoi amici. Magari dicendo che vandrai a chiedere di comprare i tuoi bot, i tuoi buoni del tesoro a Putin oppure ai cinesi. Insomma, voglio dire. Se non addirittura poi di fare una sorta di prelievo forzoso che ricorda qualcosa del passato, ma qualcuno l'ha paventata, l'idea che poi possono essere gli stessi italiani aiutare il governo, insomma qualcosa che fa spavento. Non apriamo questo capitolo, volevo invece c'è chi fare un'altra domanda, insomma in tre minuti poi riprendiamo la discussione ovviamente dopo, però l'altro tema di oggi è un po' lo sblocco dell'accordo sostanzialmente lega Movimento 5 Stelle sul tema della prescrizione. Qui si entra in ambito giuridico, la volontà è quella sempre, insomma quella di abbattere anche qui un totem, un nome, che è quello della prescrizione, dopo il primo grado di giudizio dicono però in molti attenzione perché il vero problema per quanto riguarda la giustizia non è la prescrizione, è che i processi durano troppo. Buona fede, e non solo lui, dicono noi togliendo la prescrizione togliamo l'alibi a far durare troppo i processi perché molti avvocati usano la prescrizione cercando di allungare i procedimenti. Come la pensa lei? Penso che su questo bisogna avere un atteggiamento equilibrato. Intanto ci sono reati e reati. Punto secondo, non conosco personalmente paesi al mondo praticamente dove un qualcosa di simile della prescrizione non ci sia. Tra le altre teniamo conto che nella nostra Costituzione e negli impegni anche questi internazionali, ma intanto nella Costituzione, articolo 111 e altri, vi è il fatto che il processo non può durare eternamente. Anzi, forse gli attori, gli ascoltatori, i telespettatori sanno che l'Italia è stata condannata più volte in sede di Consiglio d'Europa per l'eccessiva durata appunto dei processi. Quindi la prescrizione c'è dappertutto. Come calibrarla? È una questione di strategie giudiziarie e di qualificazione, cioè di individuazione dei reati. Io capisco che per esempio per l'omicidio la prescrizione possa non esistere e questo si può anche capire. Però ecco, qui il tentativo è di dire che dopo il primo processo, se si è concluso o non danno, la prescrizione non c'è più. Allora il rischio è che fatta il primo grado la cosa si areni perché non c'è più lo stimolo a concludere il processo in secondo grado. Il che vorrebbe dire effettivamente tenere un cittadino in sospeso come assolutamente intollerabile e ingiusto che sia. Tra l'altro si sappia che, primo, il 70% delle prescrizioni avvengono prima del processo di primo grado. Quindi il grosso del problema. E in secondo luogo invece fra i condannati in primo grado il 50% poi vengono, le risultanze processuali vengono smentite dal processo d'appello. Il che vuol dire che se vale questo discorso la metà delle persone condannate in primo grado per le quali la prescrizione sarebbe abolita rimangono appese in eterno ingiustamente, del tutto ingiustamente. Quindi è una cosa che la mia impressione è che si cerchi questo tema per rinverdire una delle parole d'ordine del Movimento 5 Stelle in un momento in cui oggettivamente mi pare sia in difficoltà di fronte all'aggressività della Lega, alla difficoltà economica eccetera eccetera. Allora si apre un nuovo campo. La cosa in parte secondo me è confermata dal fatto che come il nostro conduttore ci diceva e risulta anche a me, l'ho letto sulle agenzie, l'accordo che avrebbero preso è di introdurla subito per poi dire l'abbiamo fatto, però verrebbe la norma subordinata all'entrata in vigore fra un anno di una riforma del processo. Insomma sono cose un pochino poco serie. Per dirla così, anche in maniera più greta, lo si dà in pasto alla stampa oggi, ma poi di sostanza c'è poco diciamo così. Di sostanza sull'immediato non c'è nulla addirittura. Esatto. Allora ci fermiamo per 5 minuti, torneremo, parleremo, ricomincieremo a parlare di tutto questo, del governo fatti e misfatti, così abbiamo titolato oggi, in qualche modo ma ripartiremo anche da un referendum, quello del 4 dicembre, sembra un'era geologica fa, un referendum costituzionale che però in qualche modo ha segnato uno spartiacque anche nella nostra politica. Ripartiremo da lì e continueremo a parlare di questo e molto altro. 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio. Restate con noi. Ben tornati in studio. Allora stiamo parlando con Carlo Fusaro che è stato un politico italiano, uno studioso soprattutto delle cose politiche e anche un docente di diritto elettorale parlamentare all'Università di Firenze. Allora vorrei ripartire come accennavamo prima della pausa dal referendum del 4 dicembre. Sono passati anni ma soprattutto sembrano passati molti di più di quelli che poi in realtà sono perché le cose in Italia sono cambiate in modo particolare soprattutto nella politica. Qualcuno assimila la data del 4 dicembre alla sconfitta del referendum costituzionale la sconfitta poi di un'area politica, quella dei democratici. Ci sono state le dimissioni ovviamente dell'allora segretario Matteo Renzi ma qualcosa è cambiato. Soprattutto la percezione è che però non si è cambiata l'Italia in qualche modo e gli italiani. Lì si era costituito un fronte comune che oggi molti vorrebbero tornasse fuori in difesa di una Costituzione che però sembra più sotto attacco oggi forse di quanto lo era allora. D'accordo? Il punto è questo che le forze che sono riuscite a fermare il tentativo non tanto del Partito Democratico e di Renzi ma del Presidente Napolitano e di tutta la politica italiana sembrava nel 2013 di ammodernare il nostro sistema istituzionale. Lo ricordo per secondo si trattava di trasformare radicalmente il Senato riducendolo a un centinaio di componenti soprattutto con poteri molto ridotti. Quindi di come dire agevolare la cosiddetta governabilità. Si trattava di modificare i rapporti fra Stato e Regioni per risolvere tutta una serie di questioni che erano in sorte. Si trattava infine di introdurre alcune novità meno grandi come l'abolizione del CNEL e cose di questo tipo ma in generale si trattava di dare al paese in una fase che già si sapeva sarebbe stata e ancora era difficile un sistema di decisioni collettive più funzionale e più efficiente. Benissimo. Questo tentativo è stato fermato da un quacervo di forze molto diverse che comprendevano certamente colleghi, amici e studiosi contrari per ragioni tecniche o in difesa appunto della Costituzione come diceva Alessio che si preoccupavano di questo ma anche tutta una serie di forze politiche. Intanto ricordiamoci tutto il centrodestra che aveva sostenuto la riforma. Perché non dimentichiamo che Berlusconi ha votato fino al gennaio del 2015 la riforma e anche la legge elettorale che poi non è mai entrata in vigore e che si chiamava Italicum, non so se ve lo ricordate, che era quella in base alla quale si stabiliva la sera del voto chi vince le elezioni e chi governa. La famosa cosa che stava a cuore a tutti e poi improvvisamente non è stata più a cuore a nessuno. A questi però si univano in posizione decisiva proprio il Movimento 5 Stelle da un campo completamente diverso. E anche pezzi della sinistra. E qualche frangia certamente della sinistra in dissenso. Quindi questa fu la sconfitta del riformismo in Italia nella mia naturalmente interpretazione. Ora è sempre antipatico fare quelli che dicono l'avevo detto, si era detto. In effetti sbeffeggiati e non creduti perché il 60%, 59% rotti degli italiani non ci credete, si era detto guardate che l'Italia ha davanti momenti difficili. Trump era già stato eletto, quindi avremo difficoltà di rapporti fra l'Europa gli Stati Uniti, c'è la Cina, c'è la Russia, c'è da farsi valere in Europa, è importante e abbiamo un sistema decisionale, politico forte ed efficiente. Se no avremo dei guai, avremo guai a controllare il debito pubblico, avremo guai a fare... beh mi pare stia succedendo esattamente questo. Poi ci sono state le elezioni del 2018, cioè sono dell'altro giorno e si è visto intanto prima di tutto quanto tempo ci è voluto a fare un governo. Secondo, un dato di fatto, il governo attuale, bello, brutto che sia, che adesso sembra gli eletti noi siamo investiti dal popolo, insomma non ci si prenda in giro, questo è il governo più come dire, meno direttamente espresso dagli elettori della storia repubblicana. Perché? Perché non solo è come è normale un governo che nasce da un'alleanza post-elettorale fra forze politiche, ma nasce fra forze politiche che si erano contrapposte, perché la Lega faceva parte dell'alleanza con Berlusconi, il Movimento 5 Stelle era da solo e il terzo sconfitto fu naturalmente il Partito Democratico, quindi erano tre poli, tre poli distinti, che adesso due di questi si sono messi insieme, due di questi, no, uno di questi più un pezzo di uno degli altri si sono messi insieme, quindi è il governo più partitocratico che esista. Con un premier, come dire, scelto al di là, no perché il premier non eletto era un altro degli hashtag, no? Ah sì, ah sì, diceva di Renzi, figurati, voglio dire, era stato perlomeno come dire espressione di primarie aperte a tutti i cittadini, ben due volte. Proprio su questo, no, da osservatore, oggi il Partito Democratico decide, proprio insomma poche ore fa, di cambiare lo statuto e di scendere le due figure. No, se ne parla, ma non mi pare che sia una decisione presa. Diciamo, sì, è vero, effettivamente è in discussione, però forse in discussione più di sempre, no, in questo periodo, di scendere le figure del candidato premier in qualche modo e dall'altra parte del segretario di partito. Lei è d'accordo? Insomma, come la valuta? È una necessità del momento, cioè obbligatoria, diciamo, nel sistema secchiato? Obbligatorio, naturalmente, non è. La logica di chi vuole questa cosa è di dire, siccome il sistema non è più maggioritario, e per il momento certamente non lo è, è a prevalenza proporzionale come vediamo, siccome il governo viene fatto dopo le elezioni da trattative fra partiti, allora è inutile che ci sia questa unità fra leader del partito e capo del governo. Naturalmente, a me... Abbandona un po' lo spirito maggioritario il Partito Democratico. Prima di tutto, ma la cosa secondo me non ha senso comune, se devo dire la mia opinione francamente. Prima di tutto perché le forze politiche hanno, devono avere un leader che è capo del partito e candidato a fare il Presidente del Consiglio. Poi, se il partito non vince, o se il partito non si qualizza, o se qualizzandosi deve rinunciare lui ad avere la Presidenza del Consiglio, non lo farà. In quel caso i fatti porteranno a una scissione. Ma che nello stesso partito vi siano persone diverse, uno che fa il segretario e uno che fa il candidato alla Presidenza del Consiglio, questa è una cosa dal senso comune. Tra le altre, si porta via, secondo me, ineluttabilmente anche la logica delle primarie. Perché le primarie il Partito Democratico le fa aperte dalla sua nascita nel 2007? Le fa aperte a tutti i cittadini che dichiarino naturalmente di voler votare Partito Democratico. E chiaramente si impegnano e pagano i famosi due, tre euro per partecipare. Perché? Perché si dice il partito seleziona dei candidati, voi tutti i cittadini sappiate che se vinciamo e tocca a noi il Presidente del Consiglio, lo scegliete voi direttamente, come mi pare legittimo che sia. Chissà chi conosce la storia della Repubblica sa che uno degli elementi di maggiore debolezza del governo e della governabilità in Italia dal 1948 al 1993-95 è stato proprio questa scissione. Perché nella DC si ripartivano i ruoli fra correnti e quando veniva eletto, che so io, uno di una corrente, quegli altri li facevano la guerra. Come in effetti è successo nel PD dal 2014 al 2017-2018. Però ecco, si deve evitare questo. In tutte le democrazie ben funzionanti, Inghilterra, Germania, il leader, la Spagna, il leader del partito è quello che se tocca al partito va a fare il Presidente del Consiglio. Volevo aprire una parentesi, ma le chiedo proprio 30 secondi perché non vorrei starci sopra più di tanto, che è sempre relativa al referendum del 4 dicembre. Tornasse indietro, insomma molti parlano di questo famoso mea culpa, però la mia domanda è specifica. Tornasse indietro l'idea di spacchettare il referendum in diversi quesiti in modo almeno da portare a casa metà risultato, insomma qualcosa di questo, magari mettere la riforma e il titolo vinto da una parte, l'evoluzione del bicaminalismo perfetto dall'altra, insomma spacchettarlo. Sarebbe un'ipotesi che lei vedrebbe a un favore che tornasse indietro al seno di poi? Beh, devo dire la verità, con quel progetto non sarebbe stata una buona idea perché le riforme sono una cosa, quella riforma, come tutte quelle tentate finora, in vano devo dire, quindi bisogna prenderne atto, ma insomma in Italia rispondono a una logica di tutto si tiene. Io cambio il Senato, abolendo il bicameralismo delle due Camere sono una il doppione dell'altra, perché del Senato faccio il luogo di rappresentanza delle regioni ed è quindi logico che nel contempo io aggiorni i rapporti fra Stato e Regioni. Come faccio io a avere quel tipo di Senato ma non la revisione dei rapporti Stato-Regioni? Capito? Sarebbe un mostro. Quindi la mia risposta è no. Se poi la domanda diventa, ma in futuro si potrebbe fare cose distinte. Sì, però bisogna sapere che vanno costruiti progetti di revisione che possono vivere omogeneamente e razionalmente ciascun per sé. Allora certo che si può fare. Però il rischio è che poi fai le cose semplicemente che appaiono più semplici da vendere all'elettorato e non fai le cose necessarie e utili. Insomma, io sarei sempre per un approccio complessivo, però mi prendo anche qualcos'altro se non c'è soluzione diversa. Vedremo, perché secondo me la riforma costituzionale sarà qualcosa che ben presto, se questo governo leggerà, potrebbe arrivare come volontà politica. Vedremo. Siamo quasi in chiusa, però io volevo fare una domanda su un'altra parola chiave. Oggi ne abbiamo sviscerate diverse, che è sovranità. Oggi è uno dei temi fondamentali che viene concepito come una necessità per gli Stati. Abbiamo parlato dell'Europa, però la sovranità passa spesso anche, secondo me, anche nella percezione dei cittadini attraverso il riscoprire un'identità. La volontà di essere identificabili in un gruppo o in qualcosa, in un'associazione di idee o in qualcosa di molto preciso. Secondo lei l'identità è qualcosa che è manca o è mancato alla sinistra, non solo per l'italiana, diciamo anche a livello europeo, se vuole anche a livello internazionale, è qualcosa su cui la sinistra in modo particolare deve fare i conti? Questa è una domanda difficile, perché sono questioni da affrontarsi, sono molto complesse da affrontarsi, perché il punto è questo. Questa fissazione della sovranità, perché dico fissazione, con tutto il rispetto. Intanto la sovranità unita al concetto di nazione, dobbiamo ricordarci che è una cosa che ha provocato semplicemente in Europa due guerre mondiali. E anche prima una serie di inenarrabili sofferenze e casini, perché è l'idea che lo Stato-Nazione unito da lingua, territorio, popolo, sangue e popolo è una cosa sola, naturalmente sovrana e quindi in competizione naturale con gli altri. L'Europa unita nasce non per fare un mercato comune, non per avere una moneta comune, il contrario, nasce mettendo in comune le risorse atomiche, di acciaio e poi anche economiche per evitare che riemerga la rissa fra gli stati nazionali, essenzialmente per evitare che continui a latigare i francesi con i tedeschi. Allora, e questo è un esperimento che ha funzionato a meraviglia. L'Unione Europea è una gloria, è uno dei maggiori successi della storia dell'umanità, perché ha portato in un continente che aveva provocato, era stato l'epicentro di due guerre mondiali in un secolo, in un posto di pace. Allora, l'idea di buttarla a mare in nome di quale sovranità? La verità è che la sovranità, certo che conta, è anche l'identità, ma la sovranità oggi la devi coniugare al livello in cui si può effettivamente esprimere. Perché un paese piccolo come l'Italia, ma quale sovranità volete esprima? Certo ha un suo piccolo orticello, ma in tutte le cose che contano, economia, finanza, anche immigrazione, il mondo, è competizione con la Russia, competizione con gli Stati Uniti che non sono più gli amici di un tempo, con la Cina che con i suoi modi più sottili, però sta avvenendo, basta aprire gli occhi, insomma. Lo puoi fare come Europa. In Europa non lo può fare nemmeno la Germania da sola. Insomma, la Germania, il doppio di noi, il doppio di... ma anche quelli non ce la fanno. Allora bisogna continuare ed esprimere questa sovranità a livello in cui essa può effettivamente affermarsi. Dopodiché la faccenda delle identità la si può tranquillamente coniugare su piani all'interno dell'Europa. Ci sarà un'identità europea. Ragazzi, ma chi vive... non è un caso, Alessio, che tutte le interviste, tutti i sondaggi unanimi ci dicono che i giovani fra i 18 e i 30 anni sono massicciamente per l'Euro, massicciamente per l'Europa, della sovranità intesa al vecchio modo non gliene interessa nulla, massicciamente, poi minoranze magari ci... Eh, allora, sono i vecchi, anche il famoso Brexit, sappiamo tutti, è stato deciso da quelli che non gliene importerà nulla perché fra dieci anni saranno belle tutte morti, mentre i giovani inglesi fra 18 e 30 anni anche loro avevano votato massicciamente per l'Europa, ma perché vivono il clima, fanno l'Erasmus, girano per il mondo e spieghiamoli che dobbiamo rimetterci le frontiere, il passaporto, le monete diverse, gli inni, i cavalli di Frisia, ma ragazzi, ma siamo seri, tra l'altro, e penso che dobbiamo concludere, mi pare di capire, tanto più in un paese come il nostro, il paese nostro non ha risorse naturali, no? Tranne la sua bellezza e la sua arte, ma non è proprio una risorsa naturale. Allora, abbiamo bisogno, noi campiamo di commercio estero, campiamo di esportazioni, campiamo di produzione e vendita di queste cose che siano gli alimentari, il vino oppure la meccanica e le automobili. E quindi pensare di isolarci in nome di un sovranismo del ventesimo secolo è proprio una follia. Grazie mille a Carlo Fusaro per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti per aver seguito questa trasmissione, naturalmente ci vediamo domani sera sempre con Telegram. Buona serata a tutti.